Questa è una storia d'amore. Una storia d'amore in Islanda. Una storia d'amore tra due camper in Islanda. E dentro questi camper, in compagnia di altri viaggiatori, potreste esserci voi. Potete scendere dei gradini, lavare il camper, versare del latte in movimento, tagliare delle uova, bere dell'ottimo caffè italiano, palmare burro e marmellata, guidare, salire sul tetto, spaventare le pecore, comprare degli utilissimi mutandoni, riempire il serbatoio, mentre fuori c'è tutto questo. Che cosa aspettate? Mollate Milano Marittimo Gallipoli e andiamo in Islanda quest'estate.